Ciao a tutti e bentornati nella rubrica basic Vogue bene sì, la rubrica in cui ricreiamo i look delle superstar che escono su Vogue e questa volta tocca a Lily Collins perché la cara Lily ha fatto un video tra l'altro in collaborazione con un brand in realtà quindi siamo qua con il nostro pigiama di pura seta cinese siamo qua con tutto ciò che sono riuscita a mettere insieme che possa essere un dupe di quello che lei va a utilizzare perché sì, cercheremo di fare il tutto con prodotti possibilmente low cost e che comunque avevo già in casa devo dire che mi era mancata questa rubrica fatemi sapere se vi era mancata e direi di cominciare aggiungo anche che non è un caso che Lily Collins sia su Vogue perché penso sia una cosa promozionale di Emily in Paris che è la nuova serie tv che ha fatto per Netflix l'ho vista, ne parliamo dopo e cominciamo Hi, I'm Lily Collins and I'm going to walk you through my skincare routine and I'm going to take you through a clean day to night look with a little nod to Parisian glamour My first step I always make sure to spray my Beekeeper's Propolis throat spray I love it so much because it has Propolis in it which is an amazing immune system booster it has a lot of antioxidants and it's so good for a scratchy throat which sometimes I wake up with il primo step non è né skin care né make up ma è il Propoli lo spray al Propoli io non ho lo spray ho le gocce quindi andrò a prendere del Propoli perché questo è quello che fa Lily Collins e questo è quello che faremo anche noi quindi questo è Propoli Echinacea Ribes Nero sicuramente male non fa non so neanche se faccia bene se uno non sta proprio male ma comunque disti tempi aumentare le difese immunitarie fa sempre comodo quindi io vado tra l'altro dovete sapere che io adoro il Propoli è proprio un gusto che mi piace un sacco quindi ci sta penso che inizierò a berlo ogni mattina anche il secondo step non è né make up né skin care ma è un olio alla menta un olio essenziale alla menta che aiuta diciamo a svegliare la nostra pelle quindi io fortunatamente avevo dell'olio essenziale alla menta quindi però non è Rolone il mio è mettilo sul dito e passatelo quindi faremo così metto un po' e poi quante cose che si imparano su Vogue poi adoro la menta finora mi piace questa routine time to wash the face now I started to use this face scrub a little while ago which is amazing posso dire che mi sembra una congiura contro di me che tutte quelle che fanno i video per Vogue abbiano delle sopracciglia mega galattiche tutte belle come se non avessero mai tolto un pelo nella propria vita io me le sono dovute un po' fare per non sfigurare di fianco Lily Collins cioè nel senso ok magari non abbiamo tutti attraversato quel periodo della vita in cui andavano di moda le sopracciglia a filo e quindi abbiamo un pochino esagerato però accidenti sono passati anni come è possibile che non rigrescano comunque a parte questo si va a lavare la faccia con un detergente non ho capito bene quale fatto sta che volevo usare questo qua di Cosmify perché sono molto economici questi qua i Cleansing Foam Take Care of Your Skin e sono ottimi costano davvero poco 7,50 euro mi sembra e sono ottimi io li uso tantissimo quindi vado ad usare un cleanser però in formato schiuma in formato mousse poi un'altra cosa lei va a usare uno spazzolino con cui si massaggia la faccia io anni e anni e anni fa avevo comprato questo qua della bellissima Imetec Face Cleansing comunque questo vibra anche ASMR ma perché i busybog devono sempre prendere una piega porno? e comunque lei lo va semplicemente a spazzolare così quindi lo vado a fare anch'io e questo ovviamente andrà un po' a scrabbare la faccia che è sempre un ottimo modo per eliminare cellule morte non esagerate se avete la pelle sensibile io un po' ce l'ho quindi non esagererei più di così e vado a sciacquermi la faccia un attimo ok now that my skin is all dry I'm going to apply the next stuff which is toner I've always used this toner with witch hazel because it's just such a classic a little bit on a cloth pad you just wipe it all over allora lei va a usare un tonico al witch hazel che in italiano è amamelis virginiana che in Italia io non so se facciano dei tonici così e in generale io non ce l'avevo neanche lontanamente le proprietà sono antibatteriche quindi immagino che sia anche qualcosa di prevenzione dell'acne eccetera eccetera io non ho niente del genere quindi andrò a usare il tonico di Skin Proud il Detox Tonic che comunque Detox non lo so comunque è un esfoliante so next I use Advanced Genifique Serum it has hyaluronic acid for the hydration and vitamin C to fill in the fine lines which is so great and it gives my skin such a healthy glow which who doesn't want a healthy glow right and then you apply softly to your skin and it smells so yummy and what I love to do also is I love to use a jade roller I love doing this because I feel like it really helps lock in that moisture for the healthy glow siamo arrivati a uno dei miei step preferiti ovvero quando si utilizzano aggeggi che ho volete ridere un po' con me? si è dimenticata di usarlo ovvero il rullo di giada che ovviamente questo qua non è neanche lontanamente giada non so neanche se sia considerabile un minerale comunque la giada è un minerale pietra dura mineralogica mineralogica mineralogicamente appartenente ai silicati cioè mineral 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 mineralogicamente peggio di supercalifragilistica e spiralidoso quindi devo usare questo siero di Lancome perché appunto il video è sponsorizzato da Lancome che è sia acido ialluronico sia vitamina C io non ho un siero che sia vitamina C e acido ialluronico quindi vado ad usarne due diversi di Skin Proud che sono lo Smooth Talk che è quello all'acido ialluronico e il Bright Boost che è l'acido no che è la vitamina C e quindi praticamente faccio un po' di entrambi passiamo a uno spray io ovviamente non ho lo stesso che lei quindi vado ad usare sempre di Skin Proud giuro che questo video non è sponsorizzato da Skin Proud però visto che è un brand abbastanza low cost e facilmente reperibile perché lo vendono ad OBS allora visto che molti di questi prodotti erano facilmente sostituibili con questa linea ho detto ma sì dai visto che ve l'ho fatta vedere forse solo una volta ma adoro questi prodotti comunque vado ad usare il Refresher Hydrating Face Mist e questo qua è all'ananas è buonissimo ve lo giuro comunque vado a spruzzarmi è vero anche questo sa un po' di vacanza comunque c'è da dire che nel 2020 il massimo che possiamo fare come vacanze è spruzzarci uno spray che sappia di ananas o cocco questa cosa è molto triste io ho usato Labra Cadabra scrub labbra di Lush che ovviamente è a base di zucchero quindi se siete a dieta non mangiatelo e poi il lip scrub di We Make Up che è in silicone quindi lei va a usare un sunscreen quindi una protezione solare che però fa anche da primer io ho deciso di usare un primer con protezione solare che è il Bare With Me SPF 30 di NYX è un ottimo primer mi è piaciuto abbastanza molto idratante in realtà sembra quasi crema solare perché è proprio bianco però è molto più leggero la cosa un po' strana è che non usa una crema idratante o un contorno occhi che sono abbastanza prodotti standard per la skin care ma lei non li usa andiamo avanti so on to the first step of my makeup routine which is Tante E Dole foundation which is so perfect for a lightweight feel so what I like to do is take this partnered with the Genifique Serum because this makes it actually more of a medium coverage and it adds back that healthy radiant glow that I was talking about mix them all together and then I'm just gonna put a couple little dots and now I just take the sponge ok volevo usare un fototinta che è estremamente coprente ma molto leggero che va a diluire con i sieri quindi io non ho capito bene se ci ho azzeccato ma penso che userò la CC Perfecting Foundation di Revolution Pro che poi vado a diluire un pochino con i due sieri di Skin Proud e vado a mettere con la blender tra l'altro sembra anche che abbia messo il correttore ma non lo menziona quindi immagino che l'abbia cioè proprio dopo passa già la cipria quindi teoricamente non penso che sia andata a metterlo allora il fondotinta con il siero si sta tutto separato spero possiate apprezzare il fondotinta che sia tutto separato con il siero quindi quindi forse non è il massimo come come perché non si amalgamano proprio rimangono belli separati non vogliono proprio stare insieme un po' come me con Basic Megaya guarda che è il contrario bella quindi dopo questo fail proviamo in un altro modo vado a mettere l'Insta Moisture Moisture l'Insta Moisture di Kiko tonalità che poi me la dimentico 1.5N e provo a mettere anche qua una goccina di siero vediamo se questi due si amalgamano sì ok questi due funzionano insieme vogliono stare insieme io vi dicevo prima che ho visto Emily in Paris ovvero la nuova serie appunto su Netflix perché sarò così in basso ovvero la nuova serie Netflix in cui c'è come protagonista proprio Lily Collins che è un'americana di Chicago che fa praticamente la social media manager in pratica comunque fa marketing eccetera e va a Parigi dove inizia un po' a diventare anche un po' un influencer perché cambia il suo nome in Emily in Paris su Instagram e la gente la segue per vedere un pochino cosa fa a Parigi allora quali sono state le mie impressioni? è sicuramente una serie molto leggera non è niente di colossale per cui non è che uno si aspetta chissà quanto però io ho trovato veramente che fosse offensiva per i francesi e un po' in generale per gli europei cioè fanno passare gli americani come degli stacanovisti che pensano solo al lavoro e gli europei in particolare i francesi come gente che proprio del lavoro non gliene frega niente e sono anche un pochino boh pervertiti non lo so poi a me devo dire che non è dispiaciuta cioè l'ho guardata tutta abbastanza anche velocemente perché comunque ti incuriosisce vedere un po' però posso dire che forse la cosa migliore di tutta la serie sono le riprese di Parigi non lo so non è che mi abbia proprio fatto impazzire è carina leggera scorrevole se siete a casa anzi probabilmente sarete a casa molto spesso sicuramente io sto aggiungendo perché in realtà le mie occhiaie non vengono coperte da questo correttore quindi sto sperando che aumentando un pochino si coprano comunque tra l'altro mi ero dimenticata quanto mi piacesse questa fondotinta è veramente carino voi l'avete vista fatemi un po' sapere se non so se l'avete trovata poi così bella non lo so non è brutta non è la serie della vita cioè secondo me vuole essere un pochino sullo stile di Sex and the City mi ha dato un po' quel vibe lì ma Sex and the City è raggiungibile secondo me ma in generale gli anni 90 e i primi anni 2000 ragazzi sono imbattibili in realtà non so se Sex and the City sia di quel periodo mi sembra di sì però comunque l'effetto desiderato finale era una fondotinta fresca una base fresca io penso di esserci riuscita comunque è super leggero ma allo stesso tempo uniformante molto radioso quindi secondo me nonostante i piccoli intoppi ce l'abbiamo fatta andiamo avanti mi sa che comunque Lily Collins c'aveva fretta in sto video perché dura abbastanza poco ed è abbastanza spedito mentre le altre la tirano per le lunghe fanno cose veramente cioè che non so neanche io quanto ci mettono a registrare quei video lei è abbastanza spicciola spicciola non so perché ho detto spicciola si muove abbastanza comunque lei va a mettere una cipria vado a mettere anch'io una cipria metto la wannabe my honey di essence devo dire che mi piace un sacco come polvere compatta opacizza benissimo ne basta molto poca che sapete che io e la cipria abbiamo un rapporto un po' particolare poi adesso sono abbastanza luminosa luminescente quindi vado un po' a settare anch'io però insomma non mi piace mai esagerare con questa devo dire mi trovo davvero molto molto bene on to blush we're gonna use blush satiel I'm just gonna apply it right here il problema di questo passaggio che lei dice che usa un blush ma che non ha fatto vedere quindi io non ho idea di che colore sia questo blush ma ci ho fatto il contouring con questo blush quindi immagino che sia una tonalità che possa andare bene per il contouring io non ho un blush che vada bene per un contouring quindi opterò per un bronzer anche se non un blush però davvero cioè se no rischio solo di sembrare Peppa Pig quindi no e comunque le va a scavare tanto va anche abbastanza più in basso delle sue cheekbones dei suoi zigomi perché di solito il contouring si fa un po' in alto lei va abbastanza in basso e arriva abbastanza verso la bocca un po' stile Tim Burton diciamo vuole fare la Tim Burton challenge che va di moda adesso io provo a usare il mistress of evil tonalità 05 aurora di ila makeup per cosma i fai questa tonalità qua e vediamo un attimo se riesco a fare una roba che non sia indecente perché io cioè quel genere lì di contouring lo posso fare ad Halloween perché nella vita di tutti i giorni secondo me non è proprio credibile su di me comunque appunto mi tengo un po' sul basso e vado verso la bocca non lo so che dite giudicate voi andiamo avanti quindi noi abbiamo scoperto che Lily Collins anche si era tolta troppo le sopracciglia ma le sono ricresciute perché perché non puoi non puoi già essere una figa stratosferica magra attrice super famosa bellissima e pluripremiata e avere anche le sopracciglia che te li crescono se le togli cioè ma perché noi comuni mortali non siamo così vabbè allora ovviamente lei non è che va a usare prodotti sulle sopracciglia perché le sue decisamente non ne hanno bisogno io già le avevo un po' fatte un po' disegnate vado anche un po' anche io a pettinarle ma l'effetto è decisamente diverso invece quello che devo fare è usare il illuminante per andare diciamo a a sottolinearle queste sopracciglia e vado ad usare questo qua di ELF il moonlight pearl praticamente lo va a mettere prima di tutto sulla palpebra e poi fin sotto il sopracciglio questa cosa ovviamente darà risalto all'osso del sopracciglio e quindi lo lifterà io che cerco di compensare anni a togliermi le sopracciglia con questi strumenti la sua linea di mascara è letteralmente una linea per parte non ho mai fatto l'eyeliner così ho sempre immaginato che l'eyeliner dovesse essere diciamo una linea sì sottile ma comunque che cioè non ho una linea una linea composta da un po' di linee invece lei fa solo una linea e io non riesco a immaginare come possa starmi un eyeliner verso così quindi scopriamolo subito sto trafugando qua trafugando ma per oggi uso verbi a caso sto frugando sto frugando per prendere l'eyeliner che è di Sleek il Deep It Eyeliner ed è appunto un eyeliner liquido perché lei usa un eyeliner liquido io di solito uso quelli in penna quindi vediamo un po' mi avvicino anche lo specchio perché ho detto che lei lo fa tirandosi l'occhio e altrimenti non posso farlo praticamente fa una linea ma già a me non viene non mi viene perché non viene no io non credo che sia giusto c'è la sua una linea sottilissima proviamo di qua allora questo eyeliner lo buttiamo c'è da dire che si è levato col dito quindi wow direi che provo credo tra l'altro l'unico eyeliner liquido che avessi qua quindi vado con uno in penna e provo a rifare la stessa identica cosa ma con l'eyeliner in penna che tanto tra l'altro c'è il pennellino quindi più o meno perché di qua mi viene di qua no vi giuro che è più difficile fare sta linetta microscopica che l'eyeliner tutto tutto l'occhio io non capisco cioè mi sembra che ne manchi qualcosa cioè non credo di averlo fatto giusto ma anche di qua non mi piace su di lei è molto molto meno evidente questa linea che fa non capisco provo a farla molto più piccola ecco ho sbagliato sono completamente diverse ma certo perché questo eyeliner perde ci credo che macchia allora però cosa succede a questa cioè che svirgola così io non ho gli occhichiali ma perché no vabbè è finita tutto sul pigiama di pura seta cinese bene questo pigiama tra l'altro ne sta vivendo di ogni stress ma perché ma perché doveva essere una roba così veloce da fare sta linea di eyeliner sono rossa e grigia adesso rossa e grigia allora ho deciso che mi accontenterò di questo l'unico che ho riuscito a fare è stato il calligraphy pen di Wicon che è super sottile I'm going to accentuate it by using Monsieur Big mascara allora ho messo il volumizing mascara di Astra della linea Pure Beauty e adesso vado a pettinarle con uno spazzolino pulito pulito si fa sempre per dire in questa casa io non ho capito perché le sue labbra sembrano parecchio aranciate pescate quindi quando va a mettere il rossetto non riesco assolutamente a capire di che colore sia alla fine di tutto sembra che lei abbia sulle labbra un rossetto glossato arancione pallido arancione pastello voi sapete il mio rapporto con questo colore cioè è difficile che sia bene a qualcuno ecco su di me ora scoprirete che è terribile per dare diciamo la resa finale un po' simile io devo andare a mettere proprio un rossetto abbastanza aranciato e sono andata a ripescare l'unico che ho ancora perché avendo fatto le cluttering ho eliminato tutti i rossetti che tanto non metto mai perché mi sta male il colore e quindi l'unico che secondo me può essere un po' sensato è di Gaia Viscoli Gilardi per Cosmify questo è Tiger Lily e come vedete è proprio un colore abbastanza aranciato pastelloso e al di sopra vado a mettere come gloss invece il gloss di We Makeup questo qua un po' più nude perché secondo me è meglio attenuarlo un attimo perché questo qua è un po' più scuro di quello che ha usato lei o comunque in generale non ho ben capito che cosa ha usato quindi proviamo e vediamo la fine che risultato dà sicuramente non sarà bello perché questo colore non mi sta bene beh secondo me potrei essermi ciò avvicinata col colore finale sicuramente non è proprio uguale ma davvero non ho capito assolutamente che colore abbia usato fatto sta che cosa ne penso allora è un look super semplice veramente molto carino discreto l'eyeliner a parte gli evidenti problemi che ho avuto non lo so non mi convince tantissimo solo la linea finale dell'occhio cioè a me piace proprio più un eyeliner un po' più costruito e non ho neanche trovato tanto facile da fare ma perché io ho delle pieghe negli occhi nelle palpebre quindi è veramente difficile fare una lineetta e basta senza poi andare a riaggiustarla quindi Lily sei molto fortunata a non avere questo problema nel complesso togliendo questo rossetto mi piace il look quindi fatemi sapere che cosa ne pensate se vi è piaciuto questo video se siete arrivati a questo punto del video commentate con l'emoji di una cosa francese tipo un croissant commentate con un croissant perché me li imperi insomma avete già capito poi questo qua è un look da french girl insomma se siete francesi o conoscete delle ragazze francesi fateci sapere se si truccano così e noi ci vediamo nel prossimo video peace out ecco a voi il meglio e il peggio di questa puntata di basic gaia high protection fpf io che cercavo di specchiarmi con lo specchio al contrario comunque sto bene che voglia di amarena wow il potere delle canzoni fammi venire fame io non ho gli occhi che ha comunque è stato molto meglio chi mi sta chiamando pronto? pronto? no no sono già posto sto lavorando mi dispiace mi dispiace Grazie a tutti.